Cosa significa per il territorio, per il turismo, il Giro d'Italia? Beh, innanzitutto il Giro d'Italia è una grandissima festa di popolo e lo stiamo vedendo e ringraziamo il Padre Eterno oggi di averci mandato perlomeno le nuvole e non ancora l'acqua con qualche sprazzo di sole. Poi è una straordinaria opportunità per il territorio di farsi conoscere, vedere attraverso tutti i vari canali multimediali ed è un'opportunità straordinaria per promuovere e far vedere ancora una volta il nostro bellissimo paesaggio e territorio. Oggi Braa è la capitale del nostro territorio ma poi i corridori per un'ora e mezza, due ore correranno, si cimenteranno sulle strade di Langeroero per poi salire verso Torino, verso Rivoli. Io credo che questa sia una veramente straordinaria, enorme occasione che non va persa e complimenti all'amministrazione comunale di Braa e a tutti gli enti del territorio compreso l'ente turismo Langhe Monferratoero che hanno promosso questa iniziativa. Grazie, buon lavoro.